17 nuovi contagi, positività che torna a salire e si attesta al 4%, 418 i tamponi refertati, 10 positivi a Venafro dove si registra un cluster vacanze, comitiva di giovanissimi di ritorno da un viaggio su un'isola. Molti i contatti che i ragazzi hanno avuto al loro rientro, diversi non sarebbero vaccinati. Tempestivo il tracciamento, ora si attende l'esito di altri tamponi. La speranza è che il cluster sia circoscritto. Contagi anche a Campobasso, Campomarino, Isernia, Montenero di Bisaccia, Santa Croce di Maiano e Termoli. Nell'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale ci sono anche le notizie di un nuovo ricovero in malattie infettive, una persona di Santa Croce di Maiano e una dimissione dallo stesso reparto. Uno dei due stranieri giunto nei giorni scorsi da una comunità di Letino. Saldo invariato in contrada Tappino. ci sono cinque degenti, uno dei quali in rianimazione. 13 guariti, 158 i casi attualmente positivi, 2.133 i soggetti in isolamento.